Radio Radicale, siamo con il professor Romano Ferrari Zumbini, docente di storia del diritto e di storia costituzionale alla LUIS, per parlare con lui di diritto internazionale, di come si dichiara la guerra e soprattutto dei casi anomali di dichiarazione di guerra. Allora, riflettendo un po' lo scorso anno sugli anniversari che cadevano rispetto al 1943, la mia attenzione è caduta sulla strana dichiarazione che il Regno del Sud aveva fatto nei confronti della Germania nazista il 13 ottobre del 1943 a Madrid. E poi con il professor Ferrari Zumbini avevamo riflettuto su quante dichiarazioni di guerra avevamo fatto tra il 1939 e il 1945, dichiarando guerra praticamente in ogni dove, con qualsiasi schieramento politico. Oggi le guerre si fanno, non si dichiarano e la cosa che mi aveva incuriosito di più di questa vicenda era anche un po' il motore cambolesco col quale noi avevamo dichiarato guerra ad Hitler nell'ottobre del 1943, che è un episodio molto molto dimenticato, ma anche molto divertente, che è stato anche oggetto di un bel libro scritto da un consigliere d'ambasciata nel 1963, che ha proprio questo titolo, 13 ottobre 1943. Allora, professor Ferrari Zumbini, quali sono le caratteristiche di questa strana dichiarazione di guerra dell'ottobre del 1943 che credo neanche Vittorio Emanuele III volesse fare nei confronti della Germania nazista, ma che fu in qualche modo costretto dalle circostanze a fare? Buonasera. Allora, partiamo da una circostanza cui lei ha accennato. Fra il giugno 1940 e il luglio del 1945 l'Italia ha dichiarato guerra a quasi tutto il mondo. 10 giugno 1940, con il famoso discorso dal balcone, Mussolini rese noto che era stata presentata dal ministro Ciano e gli ambasciatori di Francia e Inghilterra la dichiarazione di guerra e quella è stata la prima. Nello stesso 1940 entrammo in guerra con la Grecia, nel 1941, nell'aprile, con la Jugoslavia. Nel giugno 1941 ci fu una dichiarazione di guerra con l'Unione Sovietica, nel dicembre dello stesso 1941 dichiarazione di guerra agli Stati Uniti, nel 1943 dichiarazione di guerra, quella a cui lei accennava e che adesso approfondiremo, il 13 ottobre del 1943 alla Germania. Ma non è finita qui perché il 15 luglio 1945 è stata presentata una dichiarazione di guerra al Giappone. Se non fosse una vicenda, un insieme di vicende tragiche, diciamo che sarebbe una simpatica commedia. Pensare che uno Stato come l'Italia, bellissimo, ma non certo una potenza militare, di guerra, praticamente... Pensi che Gran Bretagna e Francia all'epoca erano due imperi e che occupavano insieme più dei due terzi del globo. Pensi tutta l'Africa, il Madagascar, l'India, l'Indocina. Cioè era qualcosa di veramente tragicomico pensare a tutte le dichiarazioni. Però analizziamole separatamente. Allora lei ha preso spunto da quella del 13 ottobre 1943. Può essere analizzata da un punto di vista aneddotico, può essere analizzata da un punto di vista di diritto internazionale. Vediamo più l'aspetto aneddotico, perché è quello più simpatico e quello meno doloroso, che genera meno sofferenza psicologica a doverci riflettere. Allora, cosa era successo? Era successo che è una vicenda che è stata gestita da Badoglio. E pertanto è stata una vicenda gestita male, in maniera inappropriata, che ha determinato una serie di effetti negativi a cascata che si aumentavano giorno per giorno, settimana per settimana. Vede, a Vittorio Emanuele III si imputano tante colpe. Secondo me si sbaglia. Mentre non gli si imputa quella che è la vera grande errore storico, decisivo, che Vittorio Emanuele III ha commesso. Lì si rimprovera la cosiddetta fuga a Pescara e a Brindisi. Secondo me che il Capo dello Stato, Re o Presidente della Repubblica che sia, il Capo dello Stato garantisce la continuità dell'ordinamento. E pertanto è giusto che si adottino delle misure a tutela della incolumità fisica del Capo dello Stato. Avevano abbandonato la capitale i reali di Olanda. Persino Churchill aveva organizzato per Re Giorgio VI l'arretramento in Canada. E quindi, voglio dire, è fisiologico. Le modalità con le quali il re ha lasciato Roma sono state disastrose. Ma quelle responsabilità del governo, chi era capo del governo, Badoglio, ecco quindi che da questo ennesimo errore, e quindi la responsabilità di Vittorio Emanuele III, Badoglio da tenente colonnello nella Grande Guerra fu corresponsabile di Caporetto. Da capo di Stato Maggiore della Difesa fu responsabile del disastro della guerra in Grecia, iniziata il 28 ottobre del 40. E quindi se una persona, nella sua professione, il militare come Capo di Stato Maggiore della Difesa, Capo di Stato Maggiore generale della Difesa, era estremamente inadeguato, figuriamoci se si improvvisa in un terreno che non era il suo, che è quello della politica. Allora cosa succede? Il Badoglio ha gestito malissimo questa vicenda che ha determinato l'8 settembre e ha gestito male anche la vicenda successiva della presentazione della dichiarazione di guerra. Analizziamo i singoli passaggi, perché oltretutto c'è il sospetto che questo atto fosse giuridicamente da considerare nullo e non avvenuto. Perché? Nel momento in cui l'Italia accetta la resa incondizionata, unconditional surrender, reteso dagli alleati, viene meno la sua possibilità di essere un soggetto di diritto internazionale. Questo con l'armistizio cosiddetto breve, quello reso pubblico l'8 settembre. Successivamente l'armistizio lungo, quello firmato a fine settembre a Malta dallo stesso Badoglio, aveva dichiarato che l'Italia si aveva esplicitamente accettato che non avrebbe posto in essere, era uno Stato senza sovranità, e che non avrebbe posto in essere nessuna iniziativa politica, diplomatica, giuridica, costituzionale, se non con una formale assenso delle potenze alleate. Ora, questa dichiarazione di guerra, rappresentata il 13 ottobre del 43, non era passato attraverso il vaglio e l'assenso delle autorità alleate, quindi era anche fragile da un punto di vista giuridico. Ma vediamo l'aspetto più aneddotico, che è quello che può con tenerezza far sorridere. Allora, dopo il 25 luglio, il re aveva destituito Mussolini con molto coraggio e aveva commesso per l'erronea scelta di affidare il governo a Badoglio. E passano da allora sino al 13 ottobre diverse settimane, e sono state settimane tragiche perché molti soldati marinai sono morti, mentre invece si sarebbe potuto anticipare e organizzare meglio il tutto. Ebbene, dal 25 luglio sera Badoglio era diventato capo del governo e non aveva organizzato nulla, tanto che ebbe luogo il 6 agosto a Tarvisio, quindi alla frontiera adesso fra Italia e Austria, un grottesco incontro fra i vertici politici e militari di Italia e Germania, che erano ancora formalmente alleati. Quindi il 6 agosto a Tarvisio si incontrano Ribbentrop, ministro degli esteri, e Guariglia, italiano, ministro degli esteri, e i vertici, i capi di Stato Maggiore, generali, Keitel da parte tedesca e Ambrosio da parte italiana. Quindi si parla, ma si sapeva benissimo che era tutta una finzione, perché i tedeschi avevano iniziato a trasportare divisioni in Italia perché sapevano benissimo che gli italiani si volevano sganciare, che non sapevano come farlo. Quindi ha peggiorato la situazione perché aveva permesso intanto ai tedeschi di occupare l'Italia, anche se erano ancora alleati. Quell'incontro di Tarvisio ebbe anche un contorno imbarazzante, perché arrivano i treni al termine dell'incontro e ciascun treno, erano tutti treni speciali, avrebbero accompagnato le rispettive delegazioni a Roma o a Berlino. C'è l'ambasciatore von Mackensen, che era l'ambasciatore del Terzo Reich a Roma, il quale si trova lì sotto la pensilina ed è pronto per salire sul treno per Roma. Quando gli viene fatto presente che egli era stato destituito doveva prendere il treno non per Roma ma per Berlino. Lui non lo sapeva, senza bagagli è dovuto andare a Berlino, perché gli hanno voluto far pagare il fatto che il 25 luglio egli non avesse avuto sentore di quello che stava succedendo. E quindi è stato punito e lui l'ha preso in quel momento dicendogli che non sale su un treno ma sale su un altro. Comunque siamo già al 6 agosto e nulla ha avuto luogo circa l'uscita dalla guerra e quindi il completo sbandamento del governo italiano. Il 12 agosto appena iniziano le prime ipotesi di prendere contatto con l'inglese e con gli americani e sono tentativi che vanno a un esito imbarazzante, perché non viene a Tangeri sede il figlio di Badoglio, quindi Badoglio Junior era console generale a Tangeri e pensavano che avesse contatti, in realtà non portò a nulla le conoscenze che gli aveva avuto Colà. Si tentò con l'ambasciata svizzera, ma gli svizzeri erano terrorizzati che i tedeschi potessero invadere la Svizzera e quindi hanno detto no, noi non ne vogliamo sapere, non sono affari nostri. Finalmente il 12 agosto l'ennesimo tentativo di prendere contatto con gli alleati parte da Roma il generale, che era una persona di fiducia del generale Ambrosio, era il generale Castellà, non generale di brigata, parte con una delegazione di diplomatici che si recavano a Lisbona perché stava arrivando dal Sud America un'altra delegazione di diplomatici italiani e si avvicendavano. Cioè gli uni lasciavano le sedi in Sud America e quindi si pensava che inserire il generale Castellano in questo gruppo di diplomatici non nascondesse e permettesse quindi di non essere scoperto dai tedeschi che stava partendo un generale per la penisola iberica. Ma anche lì fu gestito tutto quanto male perché quando partì Castellano non gli fu dato il cifrario, cioè la possibilità di comunicare con frasi in codice l'andamento di eventuali trattative per le quali lui era partito. tipo la minestra di Brodo di Pollo è buona, la minestra di Brodo di Pollo è cattiva, come a dire ho ingaggiato e sto mandando avanti dei contatti oppure non sono riuscito, niente. E quindi ha reso impossibile un dialogo e pertanto per due settimane Roma era all'oscuro di quello che stava facendo Castellano perché parlare apertamente non si poteva. Il cifrario non gli fu dato e quindi tanti passaggi che egli svolse nella penisola iberica, Madrid prima e Lisbona poi, erano ignoti completamente a Roma e questo poi si sarebbe pagato. Allora cosa succede? Castellano finalmente incontra l'ambasciatore britannico a Madrid, incontra Bedel Smith, che era il capo di stato maggiore di Eisenhower e loro sono drastici perché mentre egli li portava, pensi un po' la scorrettezza da un punto di vista morale, non voglio dire cavalleresco di etica militare, ma di sicuro da un punto di vista morale, per mostrare la serietà degli intendimenti italiani ha portato i documenti relativi alla dislocazione in Italia di tutte quante le truppe tedesche, che è una scorrettezza perché in quel momento l'Italia era alleata dalla Germania, quindi tradire così il proprio alleato, un conto è sganciarsi e dirlo lealmente, un conto è all'attuale nemico, perché in quel momento, in pieno agosto, c'era uno stato di guerra dichiarato appunto a giugno 40 con la Gran Bretagna e a dicembre del 41 agli Stati Uniti e quindi è stato in segno di credibilità. La risposta delle autorità diplomatiche e militari è stata o vi arrendete incondizionatamente o non se ne fa nulla. Quindi sono stati drastici perché già a Casablanca all'inizio del 42 così avevano statuito Churchill e il presidente Roosevelt e quindi non c'era margine per nessuna trattativa. Finalmente, egli, dopo avere comunque dato i segnali di attenzione italiana, rientra e il 30 agosto è a Roma. Quindi, dal 12 agosto che gli era partito, nel 30 agosto, nessuno sapeva, a Roma sapeva niente. Egli arriva a Roma, informa immediatamente le autorità e parte, viene autorizzato a partire per andare in Sicilia, vola sino a Termini Merese e poi da lì viene portato a Cassibile in provincia di Siracusa dove ha l'incontro con le autorità militari per la firma. Senonché emerge che lì non aveva le credenziali, cioè non aveva un documento che potesse, siccome la firma aveva un valore decisivo perché cambiava tutta la prospettiva, si voleva che ci fosse una persona legittimata a firmare. Ebbene, le credenziali che l'avrebbero legittimata a firmare egli non le aveva e quindi, ancorché gli fosse arrivato il primo settembre a Cassibile per la firma, mancavano e loro non si fidavano perché temevano che fosse un doppio gioco italiano, che ci potesse essere qualche trucchetto sotto. Come si risolse il problema? Si risolse il problema attraverso la consegna delle credenziali all'ambasciatore britannico presso la Santa Sede, il quale le trasmise alle autorità militari a Cassibile in Sicilia e a quel punto presero sul serio. Ma qui iniziano i problemi perché la firma di questo cosiddetto armistizio corto ebbe luogo il 3 settembre con l'impegno entro due settimane di renderlo noto e fu detto guardate noi lo renderemo noto e voi pure dovrete renderlo noto nel pomeriggio del giorno nel quale la mattina verrà suonata una opera di Verdi. Allora da Radio Londra quando voi sentirete un'opera di Verdi trasmessa vuol dire che il pomeriggio dobbiamo rendere nota la cosa se non che dopo la firma si è posto il problema da parte del generale che aveva firmato arrivato a Roma da parte di tutte le autorità reincluso Badoglio ovviamente era al centro di tutto quanto questo problema non si sapeva quando sarebbe stata resa nota però con superficiale ottimismo si disse vabbè hanno detto due settimane e quindi lo faranno verso la fine delle due settimane ma le autorità militari americane non avevano nessuna intenzione di aspettare hanno detto nel dubbio ci diamo due settimane ma noi vogliamo fare quanto prima ecco quindi la impreparazione di tutto quanto ebbene che cosa è successo che loro imposero lotto la dichiarazione di guerra fu resa noto da generale Eisenhower la mattina fu costretto alle 20 da una sede RAI di via Siago a Roma a Badoglio di andare e fare il famoso comunicato che fu equivocato perché tutti pensavano che era la fine della guerra mentre è stato l'inizio di una tragedia ancora se possibile peggiore di quella sino a quel momento ebbene a questo punto entriamo nella fase in cui l'Italia non si sa la famosa battuta geniale nel famoso film per cui il soldato il tenente Alberto Sordi dice gli americani si sono alleati con i tedeschi perché a quel punto è successo che i tedeschi sparavano sugli italiani e non si sapeva come gestire la cosa tenga conto che all'indomani di questa dichiarazione dell'8 settembre i diplomatici italiani in Giappone furono internati ma quello del Giappone è un altro discorso lo accenno soltanto poi lo riprendiamo dopo ebbene si pone il problema di come gestire questa situazione perché nel frattempo sullo sfondo c'era la Repubblica di Salò la Repubblica Sociale Italiana che aveva a suo capo Mussolini il quale telefonò all'ambasciatore d'Italia a Madrid Paolucci De Calvoli Barone dicendoli l'ambasciatore io la conosco la stimo mi faccio da ministro degli esteri per Salò e Paolucci De Calvoli disse io rimango fedele al re grazie duce ma non posso e qualche giorno dopo tra l'altro aveva anche un po' rischiato perché non si sapeva che cosa avrebbe fatto Franco nei confronti delle delegazioni diplomatiche italiane esattamente quindi però lui aveva seguito una linea di fedeltà al giuramento al re e quindi disse lui non aveva giurato assolutamente nulla per Mussolini disse io resto da quell'altra parte c'era il rischio di qualche attentato ovviamente allora che cosa succede in maniera confusa non mi risulta che ci siano atti di deliberazioni formali del consiglio dei ministri preseduto da Badoglio fatto è comunque che il giorno 11 quindi è diventato presidente del consiglio il 25 luglio ci trasferiamo all'11 settembre quindi parecchie settimane dopo quasi due mesi dopo Badoglio invia un telegramma all'ambasciatore Parrucci de Calvo Libarone di Madrid perché comunica l'ambasciatore tedesco la entrata in guerra dell'Italia allora 11 settembre 11 ottobre 11 ottobre 11 ottobre ok abbiamo corretto la ringrazio esatto 11 ottobre qui ancora peggio il ritardo ok 11 ottobre 43 11 ottobre 43 arriva a Madrid il 13 lei dice ma come è un telegramma sì perché il governo che si trovava in Puglia doveva dare il testo alle autorità militari che dovevano alleate che dovevano cifrarlo mandarlo alle in Algeria dove c'era lo stato maggiore delle truppe americane che dovevano leggerlo accettarlo poi spedirlo sempre in cifra a Madrid e da Madrid farlo tradurre e darlo all'ambasciata italiana quindi questo spiega i due allora loro furono spinti dagli alleati a dichiarare guerra a Hitler perché so che per esempio Vittorio Emanuele III non le voleva sapere perché era ridicolo era una situazione che serviva per tentare di recuperare punti alla fine c'erano questi due poli contrari come lei giustamente ha evidenziato alla fine si decise di farlo perché ci si illudeva con la cobelligeranza di guadagnare punti in vista del dopoguerra e quindi di accreditarsi come alleato fedele e quindi di essere non più uno sconfitto ma qualcuno che ha avuto un atto si è redento e quindi tentare di recuperare punti e qui entriamo nella vicenda imbarazzante dunque l'11 ottobre parte il telegramma il 13 ottobre alle 10 arriva l'ambasciatore l'ambasciatore si trova a questo atto e si trova all'ordine di andare dall'ambasciatore tedesco e render noto che questa cosa è piuttosto imbarazzante l'ambasciatore convoca tutti i diplomatici della sede e lì ha luogo un comprensibile si potrebbe fare ironia sullo scaricabarile che ciascun diplomatico su quello di rango inferiore ha scaricato Londra ma in realtà si spiega ed è andato a finire l'incarico sul consigliere La Terza che era il più basso più giovane fra tutti e più basso in grado nella gerarchia dei diplomatici in quel ministero ma in realtà si spiega perché l'argomentazione a tutta era intelligente gli dissero La Terza era arrivato a Madrid il primo ottobre neanche due settimane e quindi non aveva avuto frequentazioni contatti con i colleghi dell'ambasciata tedesca e quindi diventava più facile mentre altri che magari la sera prima si erano incontrati a cena con consorti eccetera eccetera presentare l'atto di guerra diventava più difficile e quindi è stato dato l'incarico e bisognava Paolucci non lo poteva presentare perché lo conoscevano o sapevano se avesse chiesto un appuntamento con l'ambasciata tedesca nazista va bene probabilmente non glielo avrebbero neanche dato perché sapevano dove sarebbe andato a parare l'ambasciatore tedesco Dickhoff si sapeva benissimo che non lo avrebbe voluto accettare e qui come effettivamente non lo accettò e quindi per evitare inutili livelli di tensione elevati comprensibilmente l'ambasciatore che si era mostrato leale allo stato italiano perché lei l'ha chiamato Regno del Sud ma era il Regno d'Italia come denominazione lui era stato fedele e quindi diceva cerchiamo di fare l'operazione nella maniera più soft possibile la terza comprende che la patata bollente ricade su di lui ed egli dice ma perché l'ambasciatore le ha detto guardi sono le 12 lei lo deve consegnare entro le 15 quindi è una cosa urgente l'ambasciatore Dickhoff in persona egli pensi un po' che altro mondo era disse ma io ho una giacca sportiva e ho una cravatta molto colorata non faccio in tempo a cambiarmi d'abito e allora l'ambasciatore Paolo Ciecalbo gli disse senta vada anche con un abito sportivo capisco la sua obiezione vada lo stesso ecco un altro mondo allora costretto la terza giovane consigliere di legazione da poco vincitore del concorso va bene si reca lì e viene accolto in maniera molto cordiale molto gentile da parte degli altri giovani che lo accolgono e lo introducono all'ambasciatore egli la terza arriva con questa busta che contiene la l'avevano dunque l'avevano accolto bene perché pensavano che portasse l'adesione alla Repubblica sociale l'avevano accolto bene perché erano alleati la guerra era in corso quindi tra alleati c'è una grande forma di simpatia c'era anche poi lui la terza scoprì trovandosi lì un collega diplomatico suo coetaneo che aveva conosciuto anni prima a Roma e quindi furono contenti di rivedersi quindi c'era una situazione paradossale per cui la terza ovviamente tremava come una foglia e sudava freddo perché si rendeva conto che correva il rischio pure che non lo facessero uscire dall'ambasciata perché lì stava in territorio tedesco stava in territorio tedesco e quindi era una situazione estremamente imbarazzante per comprensibilmente imbarazzante ed egli nelle memorie che scrisse disse io cercai di essere il più rigido possibile perché ne volevo uscire vivo senza troppi danni e scapparmela appena adempiuto al mio dovere arriva in presenza dell'ambasciatore Dickhoff e gli consegna una busta Dickhoff stupito della busta chiusa dice ma me lo può dire a voce la terza ovviamente esitò un pochino all'interno c'era in nome del re veniva formalizzata la dichiarazione di guerra e a questo punto Dickhoff ich will es nicht annehmen io non lo accetto gli ha restituito subito la come a dire io non voglio che questo abbia luogo e quindi non l'accetto proprio perché c'era una prassi secolare della comunicazione possibilmente orale ma talvolta anche veriscritto della dichiarazione di guerra persino ai tempi dell'antica Roma aveva luogo una dichiarazione di guerra ai tempi di Roma era un pezzo di legno bruciato annerito che veniva con un rullio di tamburi molto forte buttato oltre il limes oltre il confine quella era una dichiarazione di guerra noi siamo in guerra ecco quindi che la formalità aveva anche degli effetti sostanziali e il Dickhoff non lo voleva accettare allora la terza era arretrato e Dickhoff che gli si avvicina e gli dice no lo prenda no io non lo voglio alla fine se n'è uscito dalla stanza senza salutarlo ecco era una situazione che se non fosse una tragedia sullo sfondo uno direbbe una situazione a commedia di Goldoni ecco e anzi quasi simpatica e allora quindi da quel momento aveva avuto luogo la presentazione della e i giornali madrileni informati dall'ambasciata italiana hanno iniziato nelle edizioni miserali a rendere nota la cosa quando la stampa tedesca invece uscì il giorno dopo negando che fosse avesse avuto luogo questa dichiarazione di guerra da parte italiana quindi era una situazione come sempre in tutte queste vicende del 43 molto confusa e gestita male la terza poi quando è ritornata all'ambasciata italiana credo che abbia detto a Paolucci abbia diciamo detto non l'hanno accettata quindi vede nel momento in cui il foglio viene consegnato e il foglio rimane nelle mani dell'ambasciatore la dichiarazione di guerra è stata comunque consegnata appunto nel senso letterale e termine va notata a proposito del caos del disordine di quel periodo che la pubblicazione in gazzetta ufficiale ha avuto luogo solo quattro mesi dopo ecco quindi da un po' il senso della dello sbandamento di tutta quanta la situazione gestita ovviamente male perché se mi posso permettere una valutazione io avrei anticipato tutte le operazioni cioè l'indomani del 25 luglio subito farsi una road map anche in relazione al Giappone e qui veniamo all'altra dichiarazione di guerra dunque nel luglio del 45 l'Italia era terminata la guerra 25 aprile liberazione di Milano 8 maggio l'ammiraglio Dönitz in Germania firma la resa incondizionata del mondo tedesco 8 maggio quindi giugno in pieno luglio siamo nella fase drammatica dolorosa ma non volano più le bombe ebbene nasce nel mondo diplomatico dall'ambasciatore Tarchiani a Washington dall'ambasciatore Cuaroni a Mosca l'idea di entrare nella partita dei cobelligeranti pure in Giappone è chiaro che è un'idea molto diplomatica e poco militare perché quelle condizioni in cui era l'Italia era ridicola tanto che gli fu fatta questa obiezione a Cuaroni e Cuaroni disse vabbè possiamo mandare dei piloti abbiamo dei bravi piloti non offriamo gli aerei ma almeno offriamo i piloti facciamo vedere che siamo nel girone giusto e quindi perché ci fu questa accelerazione perché a luglio si apprese a Washington appunto della convocazione ed ebbe luogo a partire dal 12 luglio la famosa conferenza di Potsdam quella famosa conferenza dove si incontrarono per l'ultima volta Churchill Stalin e Truman non più Roosevelt che era morto precedentemente e quindi il 12 aprile del 40 esattamente che illuse Hitler che diceva il segnale che finalmente la ruota inizia a girare nel senso da noi auspicato ovviamente era in pieno delirio ed è interessante notare in quella vicenda come la Gran Bretagna ha dato una lezione di diritto costituzionale bellissima nel senso che al grande tavolo rotondo di queste trattative di Potsdam a fianco di Churchill era seduto Attlee il leader del partito laborista perché si era votato a giugno non si erano ancora spogliate tutte quante le schede e non si sapeva chi avrebbe vinto tanto che la premonizione di Churchill era stata giusta vinsero i laboristi e quindi durante la conferenza egli che fu sospesa per tre giorni le rientrò a Londra e Attlee che era lì presente poi riprese ed era a conoscenza di tutto quello che era stato detto nei giorni precedenti perché Churchill lo aveva invitato ma torniamo all'aspetto giuridico dall'indomani dell'8 settembre tutti i diplomatici e il personale dell'ambasciata italiana a Tokyo era stata internata internata significata privata della libertà personale e collocata in locali perché loro non avevano aderito poi alla repubblica sociale esattamente perché mentre le strutture diplomatiche giapponesi in Italia si trasferirono a Salò e quindi loro avevano continuato perché per loro l'Italia era la repubblica sociale avevano quindi disconosciuto le strutture del regno d'Italia e quindi la dichiarazione di guerra è servita in un certo modo a chiarire anche la situazione col che sia ridicola da un punto di vista militare è ovvio a chiarire il fatto che si erano rotti i rapporti col Giappone perché nulla era stato intrapreso da parte del regno d'Italia nei confronti dei propri diplomatici che hanno stati internati internato significa non solo privati della libertà personale in casa loro diciamo in ambasciata no portati in ambienti scelti dagli giapponesi quindi pensi al disagio che hanno provato sino al 45 cioè dall'ottobre 43 sino a luglio 45 questi povero personale dell'ambasciata a Tokyo hanno vissuto in condizioni oltre che per la guerra e i bombardamenti e tutte le ristrettezze legate alla guerra anche perché privati totalmente della possibilità di rientrare in patria o comunque di muoversi liberamente allora il 13 luglio quindi in parallelo all'inizio della conferenza di Potsdam ha avuto luogo questa dichiarazione di guerra per la quale vale la riflessione di prima che probabilmente è da intendersi come nulla e non avvenuta perché essendo l'Italia priva di sovranità non era in grado di si potrebbe questionare ma è chiaro che il problema era politico e quindi non si poneva la questione di diritto internazionale sullo sfondo c'era il problema del destino dei partigiani si era pensato di dare la possibilità di arruolarsi nelle forze armate del Regno d'Italia poi Repubblica dal 46 a tutti i partigiani che avessero voluto mentre invece i partigiani non furono molto interessati ad arruolarsi mentre c'era e questo è l'aspetto singolare un discretamente elevato numero di partigiani che sarebbero stati disponibili a e quindi in parallelo alle forze alleate quindi anche all'Unione Sovietica a combattere in Giappone quindi era inaspettatamente si era creato un certo numero di persone che avevano manifestato il desiderio poi chiaramente con agosto c'è stata la fine di tutto quanto le due bombe atomiche le due bombe atomiche a settembre inizia la consulta quindi riprende l'attività parlamentare o simile parlamentare in Italia e quindi il fenomeno si è dissolto comunque la sintesi di tutte quante queste riflessioni alle quali lei ha dato l'avvio è che tra il giugno 40 e il luglio 45 l'Italia ha dichiarato guerra non a mezzo mondo a quasi tutto il mondo con gli esiti disastrosi che tutti noi conosciamo allora diciamo che figura ci abbiamo fatto storicamente noi per per questa per tutte queste dichiarazioni di guerra per le quali forse non avevamo titolo guardi ci sono state alcune dichiarazioni di guerra alcune entrate in guerra senza dichiarazione quindi c'è anche la Grecia ad esempio fu fatto un ultimatum tre ore prima e nella notte tra il 27 e il 28 per poi la mattina del 28 entrale e quindi già questa è stata una rottura di una certa consuetudine quindi già questo non depone molto a a favore con la Jugoslavia nel 41 non ci fu nessuna dichiarazione perché le truppe italiane seguirono quelle della Wehrmacht e quindi neppure lì ci fu una dichiarazione ecco quindi che al di là dell'aspetto grottesco da un punto di vista militare si evidenzia che c'era uno sbandamento un evidente sbandamento che l'Italia ha recuperato nel dopoguerra assumendo una posizione che però non è più attuale voglio dire l'ingresso alla Nato ha rappresentato un momento di stabilità ora con le difficoltà che c'è negli Stati Uniti in varie parti del mondo l'Italia dovrebbe nel bacino mediterraneo in quelli che sono i suoi teatri di potenziale interesse il Medio Oriente l'Africa del Nord e i Balcani assumere un profilo più alto l'importante è però in pratica estera avere una coerenza di atteggiamento queste dichiarazioni di guerra hanno dimostrato degli sbandamenti purtroppo non eleganti e soprattutto controproducenti bene io la ringrazio per averci guidato in questo viaggio nelle dichiarazioni di guerra dimenticate e che forse non avevamo neanche titolo per poter fare ma che ci dicono tanto sugli errori che noi abbiamo commesso e sul modo con cui abbiamo cercato di porvi rimedio senza neanche fare una secondo me una bella figura io la ringrazio come sempre ringrazio il professor Romano Ferrari Zumbini docente di storia del diritto e storia costituzionale da Luis con il quale abbiamo parlato di questi eventi per fortuna in qualche modo dimenticati grazie grazie a lei grazie a tutti